Mi serve un altro percorso! Cos'è successo? Pensavo di averti perso. Una fermata imprevista. Dove sono? Come sei finito, Lee? Aspetta, non sarà un itinerario eccezionale, ma ti porterà al settore residenziale delle Cassini Towers. Merda! Thelma ha di nuovo intercettato il tuo segnale! Continua a muoversi! Ok. Sei molto importante per loro, Isaac. Tieni duro, ti contaccherò presto. Ok. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Parla il direttore Taitman. È in atto un'emergenza generale. In conformità al codice civile della stazione Taitan dichiaro la legge marziale. I cittadini devono procedere all'evacuazione. Permesso di sparare a pistagli sciacalli. Non è un'esercitazione. È necessaria l'evacuazione immediata. Non è un'esercitazione. Non è un'esercitazione. E' necessaria l'evacuazione immediata. Attenzione. Parla il direttore Taitman. è un'esercitazione. È un'esercitazione. è un'esercitazione. È un'esercitazione. un'esercitazione. È un'esercitazione. È un'esercitazione. Grazie a tutti. In conformità al codice civile della stazione Titan, dichiaro la legge marziale. I cittadini devono procedere all'evacuazione. Permesso di sparare a pittà agli sciacati non è un'esercitazione. È necessaria l'evacuazione immediata. Daina, pensavo mi stessi indirizzando al quartiere residenziale. Questo sembra un centro di reclutamento di unitologi. Mi sono perso? Sì, c'è un vecchio accesso di manutenzione che conduce attraverso il sistema di gestione dei rifiuti verso le Cassini Towers. Stai in guardia. Sì, c'è un vecchio accesso di unitologi. Come vediamo! Grazie a tutti. 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 Fai a farcia!